Tragedia nella serata di martedì a Cefalù, in un incidente stradale, ha perso la vita il docente di educazione fisica in pensione Giovanni Lomenzo, 65 anni. Quest'ultimo era alla guida del suo scooter che si è scontrato con una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. Ancora tutta da verificare la dinamica del sinistro al baglio dei carabinieri. Lomenzo era molto conosciuto in città, per anni era stato docente al Rapisardi. I funerali si svolgeranno giovedì 16 giugno alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe.